Nell'anno 2008 l'Aggiunta Municipale del Comune di Lucera ha stabilito i criteri da adottare per l'erogazione dei sussidi economici finalizzati a fronteggiare le spese di emergenza. La filosofia del servizio Interventi di Urgenza, all'intento di aiutare il cittadino che per l'insorgenza di gravi complicanze di salute, si trova a vivere una fase acuta di difficoltà economica, tale da non poter più fronteggiare neanche le spese necessarie per continuare le cure essenziali e per condurre un'esistenza dignitosa. Il servizio Interventi di Urgenza ha la finalità di erogare contributi per le spese di emergenza sanitaria e nella casistica di queste ultime si potrebbero configurare anche quelle necessarie per fronteggiare una situazione di emergenza di carenza alimentare e abitativa. Infatti una dieta adeguata o una sistemazione abitativa edonia sono di aiuto alla salute degli individui più deboli, bambini e anziani, che se dovessero persistere in condizioni di carenza potrebbero nuocere il loro stato di salute ed aggravare alcune patologie in atto. Il Comune di Lucera eroga contributi fino a 1.500 euro per spese sanitarie, se nella certificazione medica si evince la necessità di sopportare spese per gravi patologie, contributi fino a 500 euro per gravi carenze alimentari nei nuclei familiari con minori in età infantile, contributi fino a 600 euro per sfratti per morosità a causa di disoccupazione privilegiando le famiglie con minori o con soggetti appartenenti alle fasce fragili. Fino ad ora, per l'anno in corso, sono state presentate dai cittadini lucerini sei richieste di intervento economico d'urgenza per un importo totale di 3.059 euro.